Sì, ma puoi stare un po' a distante, per favore, scusa. Ma cos'è quella lucetta rossa lì? Forse significa che ci stanno riprendendo. Ah, lei dice, ispettore, no, 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 non mi convince mica, no, 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 secondo me quella lì è la lucetta di una bomba che sta per esplodere. Sì, 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 non prendere la bomba. Ma no, sì, ho capito, basta. Non la toccare. Ti ho detto di non toccarla. E continua. E' più forte di me, ispettore, io faccio sempre il contrario di quello che mi dicono. Ma sì? E allora toccala? Ma basta, ci rinuncio. Grazie. Grazie a tutti